Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Martina e la mia stella lingorni e benvenuti nella parte 3 della bambina usata facciamo, fate finta che siamo in un film preparate popcorn, aranzata, coca cola, quello che volete andiamo su tocca ora andiamo nella cassa e vediamo come fanno i nostri amici eccoci ragazzi dai nostri piccoli amici ora vediamo la parte continuata spero che vi sono piaciuti i regali, c'è l'olina sì ma ora vattene, non posso stare con te vai almeno ti prendi un fattino ma come scappi, cattino ah guarda la pipì che schifo, io quello non lo pulisco dove cacchina? che schifo, cattino cattino, ora io ti giudo fuori prepara il pranzo perché noi abbiamo fame, capito? sì intanto andiamo di là in sudorno ragazzi iscrivetevi al canale se volete la campagna di video e lasciate un sacco di like poi per la parte 4 vado a preparare del mani per mangiare per la mia figlia ok 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 uguali ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui la Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Ok raga parte 4 Della bambina Cioè della serva bambina Parola parte 4 domani Quindi un bacione e a domani Lasciate un sacco di like E attivate la campanellina Ciao